ciao ragazzi eccomi qua dopo un po di assenza pochina però non ho comprato niente non stanno comprando niente niente sono qua vi faccio vedere che io ero avuto un problema col pc e la scheda video adesso poi arriverà un mio amico e lo metterà a posto sono dei driver così e niente poi ho venduto tutto 3ds quello quell'altro ho fatto un bono da 600 euro questa acqua fanghi stop e finalmente mi sono deciso cosa montano soli di annuller che schifo è però ragazzi per misposte tutto il mondo che si mette a fuoco ecco qua tutto quello che portato e la coppia sospedale un po' di cui batte fil 4 cobiti dubbi ti costo piso 14 rai si lego marve watchdog so che scena poi peso la risposta ma cc intervigia con forza motosport 5 con forza 5 scusate e e niente questa roba qua poi prenderò il live e poi prenderò il live qualche altro gioco i giochi sono 1,2,3 4,5 al lancio allora va bene queste sono le fite vedete con i pallini che ho sconchito a prendere io quelli che ho già ordinato quelli sottolineati e niente c'è fico 14 forza motosport 5 con il bambino il bambino rai soffrono vatico a porto a scala nuovo così cambiare così carino lego marve watchdog però spesce marzo mi pare poi ce ne sono tanti ce ne sono tanti ce ne sono tanti ce ne sono tanti carini e poi death rising 3 e poi vedremo cosa faranno vabbè poi c'è ragazzi in qualsiasi mi pare poi poi di vision tom claus classico mad max titolo ciò mi sto ammazzando che mi sta... hai finito di fare le dimenti? finisci la chichi ti picchio eh ma vedi tutto la camera scusate ragazzi l'ammazzo il cane stoppire la ricchina ok scusate la mia niente e poi niente io mi sono trovato al gestore dei miei amici così qua a Milano e avevo detto di giochi da dare ancora nella PS3 e mi sono preso una PS2 quindi ti cazzate di fare la PS2 però ho voluto a prendere così per sfizio tanto pagava una cazzata io ho preso insieme questo perfetto stato poi ho prenotato i denti e mi hanno dato la beta perfetto stato il verde bianco e nero però spettacolare questo è il cd gioco però non ho contato di giocare la PS2 che finchè non ti erano a posto il mio pc poi ho preso 2 e da qua c'è lo 50% di sconto questo qui massimo 2 con le briccine e tutto poi ho preso da questo qua mi sembri piaciuto questo ci cercavo già allora mi sembri anche nero però un decino poi ho preso come si poteva prendere? Max Payne il 2 adesso cercare l'1 ce l'ho 3x2 un po' coloro bianco e nero un po' italiano bello poi ho preso nel gioco di macchine dovrebbe essere l'ultimo così mi ha detto quello del bistro qua c'è un briccino questo è il disco poi ho preso che ci giocavo allora The Warriors spettacolare sempre a che mi ricordo che ci giocavo però con la play 2 questo è tutto a colore una figata le gang tutto quanto poi ho preso qualcosa di orrore questo qua mi ha detto che bello vediamo un po' questo è il briccino scusate mi mando le messaggi questo è il disco di gioco niente ragazzi io il venerdì santo domenica vado alla guest week a Milano alla fiera scusate sono 300 mili di messaggi e niente fatemi sapere chi c'è chi non c'è sotto questo video fatemi sapere chi c'è chi non c'è niente ragazzi io non c'è le sue preferenze io ero partito con PlayStation 4 poi l'ho ordinata poi ho dato la disdetta ho preso la 3 con GTA poi ho usato ho fatto un po' di casino poi ho detto quello che avevo ho fatto sto buono ho preso Xbox One in forza Motorsport 5 e dei giochi poi la parola fisicamente venerdì sabato e domenica e niente scrivete i vostri commenti cosa prendete cosa prendete se siete alla guest week a Milano venerdì sabato e domenica io ci sono dalle 9 e mezza alle 7 faccio tutti i tre giorni e voi niente fatemi sapere la 32 è lì la slim come nuova con la memory il pad e niente ragazzi altri acquisiti l'hanno infatti non andare a tirare The Walking Dead numero 12 mi pare dove ti erano oggi poi per ora altre cose ho scoperto delle scarpe farò un box delle scarpe ma magari faccio anche quella semmai belle sono e niente ragazzi questi sono i video questi che ho fatto PlayStation 2 tanto per passare sto mesetto così visto che il pc deve venire un amico mettermi a posto un attimino deve aggiungermi i drive della scheda video perché io ho un'invidia GTX 680 l'altro se con contro con incontro coglioni l'avevo detto e semmo da aggiornare i driver mi aggiornarò poi sarà posto poi mi deve mettere dei programmini e poi finalmente mi regalano sprint a sé l'ultimo perché io ho preso come avete visto nel video del precedente sunthrow 4 una figata pazzesca poi ho scaricato ragazzi la demo di lego marvel heroes una figata poi è il mio infatti lo prendo in Xbox One e lo prendo per pc pure e basta ragazzi fatemi sapere tutto lo so c'è chi non è molto d'accordo perché ho preso Xbox One però ci ho pensato bene io scopo che sono nato sono nato che ero partito con microsoft poi sono passato a sony scusate la cam e niente adesso sono tornata a microsoft non ditemi perché i giochi che ci sono a lancio mi piacciono di più rest of room c'è una grafica spettacola quantum break death of reason 3 ce ne sono belle a lancio e niente ragazzi io sono alla games week venerdì saluto domenica dall'inno da quando apre 9 e mezza alle 7 chi vuol venire mi lasciano il nome se vuole il numero di cellulare così lo chiamo ci mettiamo d'accordo un'email qualcosa per trovarci d'accordo chi è di milano chi viene da fuori se viene per vederci così andiamo tutti insieme facciamo un gruppetto e ci conosciamo bene cosa meno ci divertiamo un po' insieme ok ragazzi niente questi erano i miei video questi per station 2 e e basta niente io vi ringrazio ragazzi sempre gentilissimi ringrazio a tutti mi insieme siamo arrivati 309 iscritti grazie a tutti ragazzi vi abbraccio tutti quanti e continuate così a sostenermi perché grazie a voi io ci sono niente ragazzi ci vediamo fine settimana per chi c'è fatemelo sapere mi raccomando nei commenti si vabbè molto non saranno d'accordo per l'isbox 1 però so prendere la ps4 ok va bene però stavolta sono andato controcorrente vedremo un po' se ho fatto bene se ho fatto male poi vedremo tanto ho venuto di sabato domenica per provarla la perché ci saranno l'isbox 1 e la ps4 poi saranno tutti i giochi in uscita tutte le cose eccetera 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 poi per natale mi avranno la ps vita o il 3ds xl vediamo un po' penso più ps vita perché mi piace più la grafica più vediamo un po' cosa boba natale porterà e quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video io vi ringrazio si guardate il mio ciuffo tattico storto stamattina storto saluto tutti il grande Raiden lo zio Vito logicamente Jim e altri ragazzini Salvatore poi l'ho saluto Francesco che è sparchita 86 sparchi 86 il canale di Francesco andate a vederlo che è tosto e mio frattino Salvatore Sergio mio fratello e tutti quelli che mi sostengono un bacione grande a tutti e ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao belli grazie a tutti grazie a tutti